Ciao, sono Ramona Tagliaferri, ho 29 anni, provengo da una grande frazione di Alatri, la Fiura. Sono cresciuta nell'attività commerciale dei miei genitori ed è così che ho riscontrato le problematiche delle piccole imprese che hanno nella nostra città. Una di queste è aver perso un luogo prezioso per centinaia di giovani e non solo, il chioschetto. È da qui che vorrei ripartire il nostro paese, aiutando le nuove imprese e valorizzando quelle già esistenti.